La giornata mondiale contro la violenza delle donne Vedete dietro di me un gruppo di flamenco che farà uno spettacolo, un flash mob proprio per sensibilizzare i passeggeri su questo problema. Oggi gli uomini indosseranno magliette che metteranno in evidenza la nostra posizione molto chiara contro questo problema. Grazie a tutti. Grazie.